Perché il titolo l'utilità dell'inutile? Questo ossimoro, questo gioco di parole, serve a far capire una cosa, che oggi nella nostra società viene considerato utile solo ciò che produce profitto. Che produce soldi. Dunque ci sono delle discipline come la filosofia, come la letteratura, come la musica, come l'arte, che vengono considerate tra virgolette ingiustamente inutili perché non producono profitto. Quando si discute di filosofia c'è sempre un banchetto, c'è sempre una cena. Perché questo? Proprio perché nel mondo classico questa idea di unità del corpo e della mente, questa idea che l'uomo ha bisogno di nutrire il corpo e la mente, è un'idea centrale, un'idea molto forte. Dicevo prima la necessità della lentezza contro il fast, la necessità di salvaguardare il piacere e il gusto contro il puro consumo, la necessità di salvaguardare la biodiversità contro l'omologazione. Questi concetti noi li possiamo ritrovare in quello che oggi in negativo sta accadendo nel mondo della cultura, nel mondo dell'insegnamento in generale. C'è una bellissima poesia di un grande poeta greco, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, di nome Costantino Cavafis. Questa poesia è intitolata Itaca. Tutti voi quando io dico Itaca a cosa pensate? Pensate a Ulisse e infatti Cavafis riscrive il mito di Ulisse. Ulisse cosa fa? Parte da Troia per ritornare nella sua patria, nell'isola di Itaca. Ma Cavafis ci dice, ragazzi, non è la meta la cosa più importante. La cosa più importante non è arrivare a Itaca, la cosa più importante è il viaggio che noi compiamo, da dove partiamo per arrivare a Itaca. Non è l'arrivo a Itaca che ci rende migliori, è il viaggio, è l'esperienza che noi facciamo viaggiando, perché è quell'itinerario che ci consente di diventare migliori. Oggi la società, cosa insegna a voi studenti? La società vi fa credere, vi insegna, che quello che conta invece è fare presto, fare velocemente, per arrivare a prendere il diploma. Come se lo studio, la cultura non avessero più un valore in sé, un valore indipendente dall'obiettivo, dall'Itaca che voi dovete raggiungere. E invece è qui l'errore di fondo. Secondo me le scuole e le università dovrebbero essere un luogo di resistenza a questa logica che la società oggi, in tutti i paesi del mondo, impone. La bellezza non appartiene a un singolo, non appartiene a nessuno, ma la bellezza appartiene a tutta l'umanità. E se io distruggo un quadro di Caravaggio, ho distrutto qualcosa che nessuno più potrà riportare in vita. A me sarebbe piaciuto vedere le grandi potenze mobilitarsi per difendere i monumenti, perché la bellezza è qualcosa che rende più umana l'umanità. Ci sono in un acquario due pesci giovani che nuotano in questa direzione. Poi un pesce anziano nuota nella direzione opposta. A un certo punto il pesce anziano saluta i ragazzi, i due pesci giovani, e dice Ciao ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani si guardano, continuano a nuotare, e poi l'uno si ferma e chiede all'altro pesce Ma cos'è l'acqua? Che vuol dire questo aneddoto di Foster Wallace? Vuol dire che noi viviamo nell'acqua senza sapere che cos'è l'acqua. Noi viviamo nella cultura. Noi come i piccoli pesci ci nutriamo di cultura. Non sappiamo però che se non ci fosse la cultura noi non potremmo vivere come quei pesci non potrebbero vivere senza l'acqua. Quando ero studente, alla vostra età, vivevo in una casa dello studente nell'Università della Calabria. avevo ritagliato una frase del grande scienziato Albert Einstein. Era una frase tratta da un articolo che lui aveva pubblicato sul New York Times. Questa frase è stata una frase che io, ingollandola sul muro, leggevo tutti i giorni. ed è stata una frase che ha molto orientato la mia vita. Ve la vorrei regalare questa sera in conclusione. Einstein aveva scritto solo una vita vissuta per gli altri e una vita che merita di essere vissuta. Grazie.